Cosa pensi che stesse facendo al suolo fertile? Probabilmente cercava di spezzare il legame energetico tra questa terra e il tempo. Stava cercando di liberare Arima. Beh, allora dobbiamo trovare il modo di finirlo prima che ci riesca. E si parte! Eccoli uno. 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 Arima non ha alcuna possibilità. Eccoli uno. Eccoli uno. Eccoli uno. Eccoli uno. Ce ne sono altri? Eccoli uno. Eccoli uno. Eccoli uno. Eccoli uno. Eccoli uno. Eccoli uno. Oh, no. Grazie. 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 Metti l'aria ammalamente. Quanti ce ne sono? Forza! Salve! C'è nessuno in casa? Credi che sia una buona idea fargli sapere che stiamo arrivando? Quelli saranno anche così stupidi da vendere l'anima, ma ormai avranno già capito qual è il nostro piano. Ecco la lastra del potere. Cosa pensi che stesse facendo al suolo fertile? Probabilmente cercava di spezzare il legame energetico tra questa terra e il tempio. Stava cercando di liberare Arima. Beh, allora dobbiamo trovare il modo di finirlo prima che ci riesca. E si parte! Eccoli uno. Adi. Perdigiamo qui suori tutto da romanzo! Vai, sì. Spariamoci! Presidenti on V. Benji! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.